Un albergo quattro stelle superior sul lungomare in Matteotti con una cascata d'acqua che scorre dal picco della struttura ma anche parchi, parcheggi, servizi, è un'opera di toioito al centro della seconda piazza più grande di Pescara. La Riviera Sud cambia volto, è quel che più premia al primo cittadino Carlo Masci a costo zero per i pescaresi e che vede la sinergia tra pubblico e privato come volano di opportunità. Il progetto dell'albergo di Cecco firmato dallo studio d'urbano, approvato con delibera di giunta e di adozione, verrà firmato prima dell'estate per consentire i lavori. L'albergo porterà con sé una riqualificazione complessiva di un'area fondamentale per Pescara che è la Riviera Sud in corrispondenza di via Vespucci, una zona sicuramente di grandissimo pregio, un po' trascurata negli anni e che invece oggi acquisterà una grande vitalità, una grandissima qualità. Il progetto dell'albergo di Cecco firmato dallo studio d'urbano, approvato con delibera di giunta, verrà perfezionato prima dell'estate per consentire ai lavori il tempo previsto per la realizzazione della struttura ricettiva è di circa due anni. L'architetto Cognini ha illustrato le caratteristiche con cui è stata ridisegnata l'intera area di circa 11.000 metri quadrati. Oltre 8.000 metri saranno a uso pubblico con verde, un'area dunale e una piazza ellittica ribassata di 90 centimetri per non interrompere la prospettiva verso il mare. Circa il 20% sarà destinato a un hotel a quattro stelle superior da 50 camere su 10 livelli per 300 metri quadri di estensione e 36 metri d'altezza. Recuperiamo il rapporto con Toioito ma recuperiamo il rapporto con un'area della città che per troppo tempo non ha avuto la valorizzazione che doveva avere e oggi con questo grande albergo ma con questa grandissima piazza, con la duna, con una situazione di sostenibilità ambientale di grandissimo livello acquisterà il valore che deve avere la zona pregiata di Pescara. Aggiungo anche che questa operazione è stata fatta anche con l'accordo della soprintendenza, del genio civile, di tutti gli organi deputati al controllo di un territorio. Siamo ancora più soddisfatti perché nessuno era riuscito a raggiungere questo obiettivo e oggi invece portiamo a casa un risultato che credo si attendesse da oltre 20 anni.